Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di il riscatto delle vendite dirette. Le vendite dirette, sia tramite telefono che sul sito web, hanno guadagnato una grande quota di vendite durante la pandemia. Quindi in questa puntata del podcast, Marco, vorrei parlare un po' con te del motivo per cui c'è stato questo riscatto delle vendite dirette e di quali strumenti possiamo utilizzare per incentivarle. Quindi quello che dice Edoardo è che gli albergatori iniziano a ricevere più prenotazioni dirette a discapito quindi delle prenotazioni OTA che sono calate, da Booking, Expedia e così via. Sì, questo è un parere comune di molti albergatori che dicono ma lo sai Edoardo che il telefono squilla di più in struttura, ricevo più mail, mi rendo conto che il cliente vuole quasi essere rassicurato, chiacchiera di più, mi chiede quali servizi sono disponibili in struttura, se la piscina è aperta, c'è più una voglia di comunicare, c'è un dialogo che cresce. Sono d'accordo, anche io mi metto un po' nei panni di questi viaggiatori che hanno sicuramente più domande da porre, più dubbi, più quesiti e il rapporto diretto con l'hotel è un aspetto interessante. Oggi, piccolo aneddoto simpatico, parlavo durante l'ora di pranzo con un collega che stava prenotando le sue vacanze estive e dopo aver visto la struttura su Booking l'ha chiamata chiedendo informazioni per poter prenotare, quindi anche lui aveva questa necessità. La risposta interessante che non finisce mai di stupirmi e di farmi ridere è che l'albergatore ha risposto dicendo se vedi la disponibilità su Booking prenota lì, va bene, fai pure tranquillo. Quindi non ha nemmeno cercato di disintermediare, quindi ovviamente tutto è giusto quello che dici, in questi casi limiti, però ovviamente c'è poca trippa per gatti. Sì, vabbè, poi ci sono sempre... Lasciamo da parte questi. Esatto, ci sono sempre degli albergatori, dei receptionist che adottano questa corrente di pensiero che appunto non condividiamo. La famosa zappa sui piedi. Eh sì, assolutamente sì. Però oggi parliamo della parte buona di quell'albergatore che... Quella furba se non altro, dai. Eh sì, che dice ok, sono felice che il cliente mi chiami in struttura, che suona questo telefono, rispondo, ci faccio una chiacchierata, gli spiego che cosa offro, ma soprattutto ci attivo un dialogo che mi può portare anche ad un passaparola, perché non dimentichiamoci che c'è anche questo. Non c'è solo la prenotazione diretta fino a se stessa, ma si innesca anche un passaparola. Passaparola, cross sell, puoi vendere dei servizi aggiuntivi, puoi proporre dei tour da abbinare. Ovviamente è una cosa che puoi fare anche quando il cliente ce l'è lì presente in struttura, per carità. Però già ti avvantaggi, magari puoi proporre una camera di livello superiore o con una caratteristica unica, quale potrebbe essere un idromassaggio, un accesso speciale alla spa e così via. Quindi sicuramente avere la possibilità di parlare con il cliente finale che non ti arriva direttamente con booking, ma che ti chiama prima, è un vantaggio in ogni caso, sempre e comunque. Esatto. Devo dire che anche un effetto moltiplicatore che ha incentivato questa politica è anche la presenza di un booking engine all'interno del sito. Perché comunque i clienti lo navigano, vedono un po' quelle che sono le tariffe, le proposte che fa la struttura e poi magari se sono incerti tendono a chiamare. Quindi anche avere delle migliori condizioni sul proprio sito web rispetto alle OTA ha incentivato molto questo aspetto. Bello, diciamo sempre che il booking engine si comporta come un preventivatore. Quindi a quegli albergatori che dicono io non voglio ricevere prenotazioni dal sito, la risposta potrebbe essere OCSNI, però se non altro valuta il fatto che il booking engine si comporta come un sistema per fare dei preventivi. Ciaro. Quindi il cliente finale si fa un'idea di quelle che sono le tue disponibilità, si fa un'idea di quelli che sono i tuoi prezzi e poi probabilmente chiama per finalizzare la prenotazione stessa. Ok. Quindi il booking engine è sicuramente uno strumento principe della disintermediazione ed è anche uno strumento principe per invogliare un cliente che non vuole mettere la sua carta di credito in quel momento, sempre perché ha bisogno di essere rassicurato, ma che comunque lo può portare a farti una telefonata. Ciaro. Quindi esistono, parlavo anche con un altro consulente qualche giorno fa che mi diceva che alcuni albergatori non vogliono ricevere le telefonate. Perché? Perché sono delle strutture in città, ricevono decine di richieste preventive, sono sempre piene per certi periodi. Ok. E questo secondo me è un caso limite, un caso limite che non sono nemmeno d'accordo. Le telefonate le devi gestire comunque, le devi gestire per poter smistare un'eventuale richiesta per un periodo pieno e cercare di spostarla in un periodo in cui sei meno pieno, in cui sei relativamente vuoto. Proporre date alternative. Intendevo quello, sì esatto. Quindi proponi date alternative. Quindi quelle strutture che dicono io il numero di telefono quasi lo nascondo perché non voglio ricevere telefonate, secondo me sono delle mosche bianche e quelle poche mosche bianche che ci sono, probabilmente sbagliano. Quindi c'è sempre l'eccezione, per carità. Però 9 volte su 10, o anche 99 volte su 100, proprio per tirare la corda, le telefonate sono positive. Chiaro? Perfetto. Quindi da dove parte questo riscatto delle vendite dirette? Dove passa? Come lo possiamo incentivare? Un po' questo il topic della seconda parte del podcast. Si può incentivare attraverso diversi strumenti. Te prima hai accennato al Booking Engine, strumento principe della disinitazione. intermediazione, ma un ruolo importante è rappresentato anche da un software, da un tool che possa permettere di inviare preventivi, come è presente all'interno di Slope. Sì, il preventivatore è uno strumento che i nostri utenti adorano perché ti permette di creare dei preventivi in maniera veloce. Quando c'è una persona al telefono, contestualmente alla telefonata, tu albergatore, tu receptionist, tu addetto al Booking, hai la necessità di mandare un'offerta, una quotazione per diverse opzioni e quindi avere uno strumento che si attacca ai tuoi prezzi, alle tue disponibilità, ai tuoi piani tariffari, alle tue promozioni, ai tuoi pacchetti e automaticamente ti crea una promozione che mandi un'offerta, scusate, che mandi direttamente al cliente mentre quel cliente sta ancora al telefono e poi glielo inoltre su WhatsApp oppure glielo mandi tramite email, è uno strumento molto potente perché ti permette di chiudere il cerchio. Certo. E quindi lì il cliente rivede le foto, rivede le condizioni di prenotazione, ha appena parlato con te, non gli resta che premere il pulsante prenota e venire in struttura. Certo, la prenotazione poi ovviamente si sincronizza all'interno del gestionale, del planning, quindi non è che dobbiamo riportare dentro dei dati manualmente, tutto viene perfettamente sincronizzato, liscio come l'olio. Eh, questa è l'ambizione, quindi esistono diversi software che servono per fare i preventivi, quello che io suggerisco comunque è che questo software sia ben integrato all'interno del gestionale, da una parte per poter, come dicevamo prima, formulare un'offerta aggiornata sulla base delle tue disponibilità e sui prezzi che hai impostato, e dall'altra, come dici giustamente tu Edoardo, far sì che quella prenotazione che poi ti arriva automaticamente venga scaricata, venga salvata all'interno del tuo tableau, del tuo planning, del tuo gestionale, perché solo così riesci veramente a fare la differenza in termini di efficienza. Giusto. Altrimenti è ok, va bene, ti aiuta, ma non tantissimo, che è quello a cui noi dobbiamo puntare, a quello, a un'ottimizzazione totale. Esatto, specialmente nei periodi di alta stagione. Permettimi di dire che in tutto ciò un altro strumento che io adoro, l'ho nominato in mille puntate, viene rappresentato nel momento in cui viene finalizzata una prenotazione dalle email di presogiorno, che vengono inviate in maniera automatica e sono sempre un'ottima arma per fare un po' di cross-sell. Ah, l'email di presogiorno, sì, oggi abbiamo parlato delle prenotazioni dirette, l'email di presogiorno sicuramente arrivano meglio a quegli indirizzi email che non sono intermediati da un portale OTA. Bravissimo. E poi possono dare maggiori informazioni, come dicevi tu all'inizio, in un contesto un po' instabile, un po' incerto, vuoi sapere se la piscina è aperta oppure no, puoi dare maggiori dettagli anche in fase di prenotazione. Sì, sì, ci sono delle strutture, per esempio, che allegano un pdf con l'informativa di quella che è la struttura, quali servizi sono disponibili, altre addirittura allegano una guida della città dove soggiornano, mettendo gli eventi, sagre, ristoranti e tutta la parte più attrattiva. Sì, sì, sono d'accordo. So che tu sei un grosso appassionato di queste email di pre-post-giorno. Le adoro. Le adori. Oggi ce l'abbiamo un po' forzate dentro, perché comunque il topic rimane quello della disintermediazione, quindi la pandemia come catalizzatore non solo per cambiare i nostri modi di lavorare in hotel, ma anche come catalizzatore per incentivare una pronotazione diretta. Quindi qualcosa di buono, tra virgolette, l'ha portato. Vuoi che abbiamo un turismo domestico che è cresciuto, che magari è anche più propenso a una prenotazione diretta. E ha una chiamata, perché non ha un posto così alto, non è una chiamata internazionale, è una chiamata su tutto. Quello ormai non penso sia un problema, il problema è che dall'altra parte spesso se tu sei tedesco parli con qualcuno che conosce solo l'italiano e quindi magari nel dubbio non lo chiami. Quindi sai che noi italiani siamo famosi per non essere fortissimi con le lingue, quello stereotipo è quello. Quindi oltretutto un turismo domestico sicuramente aiuta, quindi dobbiamo noi albergatori imparare a cavalcare quest'onda. Ormai il mercato è cambiato, c'è stata un'epoca cambiata, è arrivato il covid, è passato e quindi dobbiamo approfittare di questo cambio di mentalità che sta entrando all'interno delle menti dei nostri potenziali clienti per cercare di instaurare una relazione diretta con loro e cercare di portarceli a casa direttamente perché ogni euro in più che riusciamo a disintermediare è un euro senza commissioni e quindi ben venga. Non si può vivere senza intermediazione, quindi una parte ci deve essere sempre, purché sia sempre ben bilanciata, come abbiamo detto più volte anche nella puntata di cui non ricordo il numero, che era quella relativa alla piramide delle prenotazioni. Quindi quella magari la rimandiamo. Sì, sì, dovrebbe essere la 62-63, giù di lì. Ah, perfetto. Quella è una bella puntata su come bilanciare bene le nostre prenotazioni tra le dirette, le intermediate e quelle promozionali e così via. Chiaro. E io lascerei appunto la parola ai nostri amici ascoltatori, scriveteci il vostro parere a podcast.slope.it. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro, ciao. Grazie. Grazie. Grazie.